Ok, scorritene davanti, non ho sparati. Aspetta che loro facciano il loro solito colpo. Ora non ci sono più? No, ok. Adesso vedi la parte opposta. Ok, ho preso questo. Dalla parte opposta c'è la porta, entra nella porta di là. Ah, non prendo uno scavalco? No, non perché salta giù, non... Ah, ok. No, questa porta qua, quella con l'altra, quindi immagino che sia di qua la porta. Esatto. Ok. Spacca il vaso, e poi il solito. Beh, c'è un'interruttura, però non lo sei. Non lo premeva. Ah, ecco. Appena apri la porta, torna indietro e aspetta che si chiuda. Perfetto. Ok, adesso li puoi sparare tranquillamente. Vai, aspetta la pistola, facevi prima. Lo so, non mi piace troppo vederli esplodere la testa così. Sai, c'ho le fissazioni anche io da cecchino. Io infatti nei giochi tipo di guerriglia, cioè proprio veramente amo tantissimo giocare con cecchino, tu non immagini quanto. E sono anche bravo, perché comunque... Non tutti sono bravi, ecco cecchino. Ok. Prima decorazione. Ok. Adesso puoi andare nella porta di là. Questa qua. Esatto. Perfetto. Ok. Qua dovrebbe essere dove incontriamo Ada, un po' più leggermente più avanti, dove c'è quella stanza, insieme. Esatto. Però prima dovrei fare un pezzo. Sì, il... Prendi la pistola. Ci sono i corvi, stavo vedendo. Sì, ma... Non usarla. Ok. Se vuoi, puoi provare a spararle uno da qua. Vedi se lo uccide, ma non dovrebbe rilasciarti nulla. Ora perché la il vetro... Ah, perché devi prima romperlo il vetro. Ok. Ok. No, non ho rilasciato niente. Ecco. Infatti ricordavo bene, questi poi non rilasciano nulla. Ok. Ora. Destra o sinistra? A destra non puoi entrare. Anche se provi, è chiuso. Ok. Quindi sinistra. Perché si aprirà dall'altra parte. Ok. Qui in alto c'è il... L'ho visto? Il gioiellino. Entriamo. Ok. Perché qua mi ricordo qualcosa di brutto? Sta appena passi quell'angolo. No, no, è tutto tranquillo. Però qua mi ricordo dei nemici. Ok, lì se lanci la granata flash, li uccidi e te la droppano qualcosa loro. Ok. Spinelli. Quanta roba. Spesore. Aspetta che... Eh sì. Sì, sì, girati tutta la... Anche questo qua che stava scappando, lol. Ah, un altro anche lì qua. Ok. Quanti cazzo ce n'erano? Eh, un po'. Ok. Qua mi ricordo che bisognava entrare forse con Ada, se entrava in sta parte qua. O forse si può entrare anche con lì. Può entrare anche con lì, ma solo dopo che avrai Ashley con te. Ah sì, perché deve riuscire ad entrare... deve saltare la sopra. Dovrà fare... esatto. Farà il cavalluccio e starà in terra dall'altra parte. Invece con Ada c'è la... C'è il rampino, sì. C'è il rampino e farà prima. E c'è un one. Grande Ada. Allora, questa parte ti consiglio nel caso di usare il mitra. Sono quasi tanti? Eh, più che altro, se ti ricordi... I cani. Questa parte qua è piena di cani. Esatto. Ok. Quindi il mitra in sta parte qua sarà utilissimo. Sì. Ovviamente te lo farò girare tutto quanto perché nel labirinto ci sarà anche un altro pezzo della maschera. Non si apre. Qui c'è una rientranza rotonda. C'è scritto due lune e ne fanno una. Ecco. Kennedy! E di qualcosa da WWE. Perché provavo troppo veloce il... I sottotitoli, è notato? Deve ancora finire di parlare? Beh, aveva già finito il sottotitolo. Sì. Sì. Bella Salazar dice Questa è la mia splendida residenza. Sì, ma non c'è neanche un bagno in questa residenza. In effetti. Tutte stanze ma neanche un bagno. Però cos'è? Usano il giardino qui come bagno? Può darsi. La faranno tutta... Tutti fuori? Può darsi. Salve. Ok. Appena spacchi due barili, dovrebbe arrivare da sinistra. Ok, ecco. Perfetto, è già morto. Recupera il suo drop e guarda sotto... A destra del drop. Dovrebbero esserci... Un barile, sì. Con un'erba, esatto. Aspetta. Non si sa mai. Hai per caso una granata incendiaria? Sì. Sì? Lanciagliela dentro i cani. Ok, prendo il mitra. E se rimangono vivi? No. No, morti. Perfetto. Meglio così. Perfetto. Poi mi spiegheranno dove cazzo c'erano i soldi i cani, però vabbè. Andiamo prima giù di qua. No, se li sono mangiati. Sì, vai in fondo. Oppure se li sono cagate, cioè ce li avevano nel culo. Sono soldi... Sono cani che portano soldi. Eh sì. Sono cani da tolto. Sono cani da tolto. Ok, attenzione che non arrivano. Ho visto, merda! Ho visto, ho visto! Oh! No, però non vale così cazzo, dai. Hai visto, hai visto, hai visto? Sì, ho visto, ho visto, ho visto, ma non mi aspettavo che prendi... Ne ho visto uno che stava arrivando, non ho visto l'altro davanti. E poi soprattutto perché si è animato così cazzo. E io gli ho detto cani. E quindi erano due. Sì, ho visto. 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 Ok, non sento più quel rumore bastardissimo che c'era. Adesso vai in fondo. Ma non avevo visto se c'era un oggetto, mi sembrava. In fondo? In fondo, tutto dritto. Ok, fai il percorso qua Ok, spinello Adesso puoi tornare sul ponte Subito a sinistra che c'è la porta e ti manda dall'altra parte Ok, sempre dritto Sinistra La seconda a sinistra Ok, la prima La seconda a sinistra sembra tipo che stai facendo il Garmin Ok, vai subito a sinistra Così prendi subito le munizioni del mitra Sì che non è che non ce ne ho Fa niente, è meglio avercelo Aspetta Adesso prendi Devo andare laggiù, devo andare dalla fontana Sì, prendi l'altro pezzo di Della chiave E poi quando ritorni di qua ci sono i tre cani Ok Puoi scendere dal ponte Ok Ed il mitra serve per queste parti qua Con i cani Che tu puoi smitragliare a destra e a sinistra Ok, salta a sinistra No, qua a destra e a sinistra Ok E poi vado di attento la grata? Sì Che sali la porta, sali le scale Arrivi sulla porta dove mettere la chiave che hai presa adesso E l'altro, scusa perché prima mi hai fatto scendere a destra allora? Perché devo fare ancora l'altro pezzo Perché prima non hai preso lo spray Ah Lo spinello e non hai ucciso il cane di là Ok Quindi adesso ti ho fatto prendere lo spinello e ti ho fatto recuperare uno spray a gratis Ok Ti ho fatto fare una strada più veloce diciamo Perfetto Ok Eccola, la figona Eh, devo perché le metto le mani Come alza quella coscia Per calciare È sempre bello sto pezzo Qua fa molto videogioco, sai, tipo di combattimento classico Sì Di lotta Sì 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 Da adesso sentivo in due Leon non la riconosce finché non si toglie gli occhiali È vero Manco fosse Superman Con Wesker Vedo che hai stato fatto il tuo lavoro Perché, Ada? Cosa c'è per te? Perché sei qui? Perché sei qui? Sì, sì. E il caricatore? Il caricatore? Ah, ce l'ha sulla coscia il caricatore. Eh, qua lo immaginavo di aver abbassato così tanto la mira. Eh, qua è stato più che altro coi cani. Abbiamo fatto anche un casino di morti. Eh sì. Salva? No, aspetta! Nooo! Aspetta, andando a questo saggio i progressi non salvati e andranno persi. Nooo! Se procedere, no. Ok. Uff. Ma no, asca. Perché qua non c'è la macchina da scrivere qua. Ok.